Buongiorno dal CETEMS. Prosegue il periodo di instabilità atmosferica sulla nostra penisola. I cieli si presenteranno generalmente nuvolosi al nord e nelle regioni adriatiche, dove si potranno avere precipitazioni sparse. Oggi, sull'Abruzzo, avremo cieli generalmente nuvolosi, con un aumento della nuvolosità a partire dalla tarda mattinata. Sono previste precipitazioni diffuse, soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul teatino, dove saranno più intense. Le temperature saranno in lieve diminuzione, specie nei valori massimi. I venti, da moderati a deboli, spireranno prevalentemente da nord lungo la fascia costiera, mentre saranno occidentali nei comparti interni. Mari da mossi a poco mossi, con moto ondoso in diminuzione. Mercoledì sono previsti cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Nelle ore centrali della giornata assisteremo alla formazione di locali annuvolamenti lungo i rilievi, in dissolvimento dal pomeriggio. A questi potranno essere associate deboli precipitazioni. Per giovedì sono attese rinnovate condizioni di instabilità. Dal CETEMS è tutto, linea allo studio.